Riprendiamo la nostra diretta e questa mattina sono contento di avere nei nostri studi un ritorno. Don Vincenzo D'Arenzo che è informazione rimaneggiata rispetto alle ultime volte, Don Vincenzo, perché quando abbiamo insieme curato il programma dedicato all'incontro mondiale delle famiglie eravamo a ruoli invertiti, ecco, e dall'altra parte. Grazie comunque, a parte gli scherzi, per essere qui. Buongiorno. Grazie, grazie a voi. E allora, noi questa mattinata vogliamo parlare di un percorso di accompagnamento spirituale per le famiglie separate, divorziate in Nuova Unione, che la Diocesi di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo, ma insieme anche a tante altre d'Italia, e sono iniziative che vi racconteremo anche nelle prossime settimane, ha programmato appunto per l'anno 2022-2023, nello specifico l'ufficio della pastorale familiare che Don Vincenzo dirige. Ecco, Don Vincenzo, allora, noi abbiamo davvero parlato in lungo e in largo della famiglia nei mesi precedenti, in vista del decimo incontro mondiale di giugno, un incontro bellissimo, straordinario, che davvero ancora oggi continua a dare i suoi frutti. Questo accompagnamento si inserisce, potremmo dire, in quel solco lì e nel solco di Amoris Letizia. Puoi spiegarci, ecco, di cosa si tratta nello specifico, mentre vediamo in onda la locandina di questi appuntamenti. Beh, nello specifico è un'attenzione alla famiglia in tutte le sue sfaccettature. E' certamente un matrimonio che non continua, qualche volta con delle ferite molto forti, molto gravi, perché quando un matrimonio si rompe c'è sempre qualcuno forse che lo ha provocato un po' di più e qualche altro che lo ha subito un po' di più. Quindi sofferenze che riguardano il rapporto della coppia, all'interno della coppia, ma che soprattutto riguarda i figli in tutte le loro età, in tutti i loro momenti di vita. Ecco, verso queste famiglie da anni, noi in Diocesi, ma un po' in tutta Italia è così, dal 2016 noi abbiamo iniziato un percorso di accompagnamento di queste famiglie. Al centro Diocesi, a Manfredonia, abbiamo avuto tantissime famiglie che si sono accostate, si sono avvicinate. Poi la pandemia ci ha un po' bloccati e quindi riprendiamo con gioia, con fiducia. E già ci stanno arrivando degli attestati importanti di ringraziamento, ma non a noi, ad una Chiesa che non è lontana, non è insensibile di fronte alle realtà della vita. E questa è una realtà importante ed è una realtà che forse abbraccia tutte le nostre famiglie, chi come esperienza personale, a volte per i più anziani, nei figli, nei nipoti, a volte nei figli, nei propri genitori, a volte anche nei propri nonni. Ecco, un po' tutti abbiamo esperienze di matrimoni che hanno bisogno di essere ripensati, rivissuti, a partire anche dalla situazione attuale, che può essere appunto una nuova unione dopo una separazione, dopo un divorzio, eccetera. E' quindi importante, e non a caso credo, Don Vincenzo, che la parola accompagnamento figuri come prima parola di questo percorso, perché come abbiamo anche avuto modo di approfondire, accompagnamento è una delle parole chiave della Morissi Letizia e di Papa Francesco. E queste situazioni, questi casi, che sono in aumento, ecco, nella vita di tutti i giorni, ce ne rendiamo conto, hanno bisogno di accompagnamento. Ma un accompagnamento che non deve essere solo, permettimi, spirituale o dal punto di vista ecclesiale, ma che deve coinvolgere un po' tutte le scienze e un po' tutto l'ambito della società. E' così? Certamente. Quando parliamo di accompagnamento spirituale non significa, permettimi un altro termine, più devozionare. Certo, ecco. Noi avremo come punto di riferimento, ma ripeto, è un'esperienza molto diffusa questa, la partenza della parola di Dio, la quale parola porta i contenuti fondamentali dell'esperienza dell'uomo, dell'esperienza dell'uomo e della donna insieme, dell'esperienza di famiglie, esperienze di figli, di giovani, ma non si ferma semplicemente ad un commento della parola. Quella parola viene poi accettata, accolta, verificata e insieme confrontata. Nella nostra esperienza abbiamo avuto anche fino a quattro gruppi che dopo aver pregato un po' insieme, dopo aver così ascoltato ciò che il Signore ci diceva, tutto questo poi veniva accompagnato appunto dall'esperienza anche di alcuni esperti, ci sono alcuni psicologi, ci sono degli avvocati, ci sono esperti di pastorale familiare che poi cercano di guidare con questo confronto. E ti devo dire che è stata un'esperienza molto bella. Molte famiglie, alcune sono state anche qui, prima dell'incontro mondiale della famiglia, a dire un po' la loro esperienza. Molte famiglie hanno riscoperto quella bellezza proprio dell'incontro con Dio, perché tante volte nelle nostre ferite è come se un po' Dio ci avesse abbandonato. E invece questo stare insieme, questo fare esperienza di Chiesa insieme, questo sentire esperienza anche di altre persone che sono riuscite a dare una risposta anche alla loro sofferenza, al loro dolore, al fallimento del loro matrimonio. E insieme questo mettersi davanti al Signore nell'ascolto della Sua parola, tutto questo è riuscito a dare maggiore sensibilità, maggiore forza e capacità di affrontare anche questi momenti della vita. Senni, Don Vincenzo, tante volte si tende un po' a ghettizzare, passami il termine, queste situazioni che vengono vissute anche come una sorta di ostracismo da parte di altre persone. Ecco, una delle caratteristiche di questi incontri, come vediamo anche dall'altra pagina grafica, è l'accoglienza, ma anche la fraternità reciproca. Sono due caratteristiche che mi hanno colpito molto quando ho letto personalmente questo opuscolo. Vuoi spiegarci nello specifico come si può essere accoglienti e fraterni, nel senso di fraternità? Ma io penso che il fondo è l'esperienza del cristiano. Il cristiano non è mai uno che giudica l'altro. Il cristiano non è mai uno che si pone con l'atteggiamento del sindacalista, che ha delle rivendicazioni, tutto sommato molto strane, da poter far contare. Ecco, l'accoglienza è insieme esperienza di fraternità, perché ascoltarsi reciprocamente, mettere al centro la vita, cogliere con uno sguardo di simpatia o di empatia il fratello che vive una situazione diversa dalla mia, ecco, mi pone veramente in un atteggiamento di accoglienza dell'esperienza dell'altro. Allora la fraternità nasce proprio da questo momento di condivisione, da questo momento di esperienza di comunità. Hai ragione quando dici che un po' le nostre comunità forse non sono ancora pronte a questo. Non sono pronte perché oramai il matrimonio è quello che è uno, indissolubile, eccetera, eccetera. Che sono le caratteristiche fondamentali, non è che come i cristiani abbiamo messo da parte tutto questo. Però quando la vita ti pone di fronte a fragilità di vario tipo, quando la vita ti pone di fronte a sofferenze proprio nei momenti più importanti che sono quelli della condivisione di sentimenti belli, forti, quali possono essere appunto la relazione nella coppia, la relazione tra genitori e figli, tra figli e genitori anche più grandi, più anziani, perché non dimentichiamo anche questo, genitori e anziani, spesso dico un po' nella mia comunità, con le coppie della mia comunità, dicevo quando io ero un po' più piccolo, oramai ce n'ho anch'io un po' di anni, quando ero più piccolo i nostri genitori dicevano beh, ho accompagnato i miei figli, li ho fatti, si sono sposati, si sono sistemati, tra virgolette, quindi posso anche morire. Spesso io dico ai giovani, oggi neanche questi i nostri genitori possono dire, perché ecco, dopo un'esperienza matrimoniale di alcuni anni, a volte anche molti anni, a volte purtroppo pochi mesi, loro si vedono i figli, il figlio, la figlia a ritornare, a volte anche con dei nipotini piccoli, e quindi a ricominciare un'esperienza che non è facile. Ecco, in tutto questo l'unico atteggiamento possibile che io vedo è proprio quello dell'ascoltarci e dell'accoglierci, proprio per accompagnare e integrare, è un'altra delle parole che Papa Francesco usa in Amoris e Letizia, integrare tutti in un'esperienza di chiesa, nessuno si deve sentire fuori di chiesa. E allora Don Vincenzo, rivediamo un attimo la brochure di questo incontro, ecco, grazie alla regia, accompagnamento spirituale di famiglie separate e divorziate in Nuova Unione, a cura della pastorale familiare della diocesi di Manfredonia, Vieste San Giovanni d'Otondo, come ho detto all'inizio, è anche un'esperienza che coinvolge altre pastorali in tutta Italia, pastorali familiari di tutte le diocesi d'Italia, che noi racconteremo anche nelle prossime settimane, ci è piaciuto anche iniziare da casa nostra, ecco, perché è importante anche curare chi ci è più vicino. Io ti ringrazio di cuore Don Vincenzo per essere stato con noi, ci rivedremo presto, penso, perché la pastorale familiare e la famiglia è davvero nel cuore di Padre Pio TV, l'abbiamo dimostrato anche con quel bel ciclo di trasmissioni che insieme abbiamo portato avanti. E dobbiamo riprendere alcune tematiche di quello. A disposizione. Grazie a voi e soprattutto per i nostri, per i locali, dico vi aspettiamo, ma anche chi non è della diocesi di Manfredonia, se fa riferimento alla propria comunità, al proprio parroco, certamente in tutte le diocesi c'è un'esperienza di questo genere. Grazie. Linea alla regia per la pubblicità. Grazie.